Buongiorno a tutti, oggi vorrei parlarvi delle fave, so che è un po' tardi ma qui a 500 metri sul mare dove ci troviamo, è ancora abbastanza presto per le fave, infatti si stanno sviluppando adesso il problema delle fave sono gli afidi che si installano qui nella parte apicale della pianta perché questa è quella che riceve più linfa di cui loro si nutrono quindi come ovviare a questo problema senza uccidere gli afidi, senza usare un insetticida è semplicissimo, questa tecnica mi è stata insegnata da un anziano della zona e la pratico da diversi anni con buoni risultati è semplice, basta recidere la parte apicale in questo modo e via lo potete fare anche sulle piante che non sono infestate come prevenzione e soprattutto questa tecnica non danneggia la pianta, anzi la rinforza perché manderà la linfa sulle fave che sono più in basso eccole qui e le farà ingrossare quindi lo potete praticare su tutte le piante infestate o non la cimatura è semplicissimo arrivederci, grazie e alla prossima